Stavo aspettando che mi sorprenda. Che cosa? Voglio rubare tutti quei soldi alla mia mamma. E adesso, adesso tu devi restituirmi la mia giovinezza, brutta e sporco bastardo! Ho capito, allora sei stato tu! Ieri sera ho dovuto sistemarne tre e adesso sono tanto morto. Bene, voi ci siete tutti, ma non vedo la nostra amica. Dov'è, Chiocco? Tu, piuttosto, dici dov'è la biondola? Ehi, ragazzi, sentite! Lui è... Dite pure a me, ragazze, vi prego. Ogni gentiluomo ha il dovere di aiutare le belle ragazze in difficoltà. Aspettami! Maledizione a quella brutta squinzia! Se ti trovo di nuovo tra i piedi ti sistemo io, ricordatelo, Cocca! A proposito, ho come l'impressione di essermi dimenticato qualcosa, chissà che cosa. Non riesco proprio a ricordarmelo. Che cosa sei? Mitsuhashi, sei in ritardo, non credi? Già. Senti, ma secondo me... Silenzio, Tanigawa. Certo, scusami, scusami. Cosa tu ruba il cuore? Mitsuhashi! Sei in ritardo, amico. È un pezzo che ti sto aspettando. Sai, ho sentito dire che avete rotto un braccio a il cuore. Ma cosa hai detto? Non sento niente! Sei qui, giratori! Consigli, sei qui. Visto? Sì, però non posso, non mi sembra giusto. Perché? Non è stato mica facile, sai, lasciarti quello spazio. Prova a dire qualcosa adesso! Ai, non vedi che mi hai fatto male, bestione. Cosa, cosa vuoi fare? Diavolo, la cosa più difficile è sempre cercare di rimetterlo a suo fondo. Non vuole mai rientrare! с Twitter le fai, sempre le fai da kitchen. La cosa ok esto, che cosa vuoi fare? Cosa vu licensing nell' mindre che laoverse diceva? Come lei se le fa? Non però casi vuoi fare per andare le farse insomma? È bene. È eh eh... In... Ha se sei... Vamos...